Ma perché Biondo, Marco, perché Biondo nasconde il viso come fosse un delinquente? Io lo so, anzi Biondo è un patriota e sta conducendo una battaglia solitaria quasi per la libertà di stampa a tutela della indipendenza di un giornale che questa settimana è stato vittima di un'infiltrazione gravissima. Nicola ha rilasciato un'intervista a Repubblica e gli ha chiesto le cose di cui parliamo qua, il CFA gli ha chiesto della situazione di Grillo, di Conte e il giorno dopo sul Fatto Cotidiano è comparso un trafiletto non firmato in cui si irrideva Repubblica per la scelta di intervistare Nicola. Io siccome chiaramente è un trafiletto non firmato e quindi è evidente che c'è qualcuno che sta manipolando il borderò del Fatto Cotidiano all'insaputa dei vertici del giornale. E' inutile che ridete voi due, è una cosa gravissima quella che è successo. C'è una manina, c'è chiaramente una manina che vuole mettere in imbarazzo i vertici del giornale che diversamente noi non vogliamo, ovviamente non è possibile pensare che i vertici del giornale si ritengano gli unici titolati a stabilire chi possa parlare o no di Giuseppe Conte, di Grillo, del Movimento, vorrebbe dire che sono schierati, cioè è una roba che non è pensabile. No, non ci pensano. Credo che sia la stessa manina, credo che sia proprio la stessa manina, io infatti sono preoccupatissimo di questa cosa, credo che sia la stessa manina che in passato aveva modificato gli editoriali facendo addirittura credere, pensate, che il giornale che ricordiamo non riceveva alcun finanziamento pubblico avrebbe utilizzato i sussidi, gli aiuti, le garanzie Covid incidentalmente deliberate dal governo Conte per scopi che non erano previsti da quelle normative. È chiaramente un tentativo di sabotaggio che poi, di nuovo, la stessa manina che aveva adombrato la possibilità di fallimento del giornale costringendo addirittura l'amministratore delegato a rassicurare gli azionisti il giorno dopo sul giornale dicendo che i conti sono solidissimi. Insomma, è in atto un chiaro tentativo di sabotaggio del fatto quotidiano e Nicola, giustamente, aveva chiesto di ergersi. Diciamolo, Marco, quello di Nicola è una coraggiosa azione di disobbedienza civile. Certo, ma tra l'altro sentite il trasporto di Nicola che è in lacrime, è in lacrime, che non riesce a trattenere la disperazione per quello che è successo, è un fatto gravissimo. Io non ho mai visto Nicola così provato. È la prima volta che piange di rotto in questo modo davanti alle telecamere. Non mi è mai capitato di vedere Nicola in questa situazione. Per favore aiutateci a trovare chi è questo infiltrato, perché non posso vedere Nicola in queste condizioni. E meno male che vi tengo compagnia io, perché sennò voi due, altro che Giuseppe Conte, sareste Bibi e Bibbo. Comunque non ho mai sentito cose così terribili sulla mia modesta persona. Disobbedienza civile, martire, libertà di stampa, patriota. Eh vai, patriota. Certo. Dai, ragazzi. Mando la sigla, dai, che poi abbiamo tre così, insieme a te i documenti di cui parlare. Che poi c'ho da fare, mica posso stare a presto a voi. Esattamente. È una battaglia tua. Dai. Sigla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, bianca! Bianca! Eri, eccoci. Ok. Allora, di che dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare di tre cose, ragazzi. Dobbiamo parlare di tre cose. Dobbiamo parlare e commentare il voto che c'è stato sullo statuto del Movimento 5 Stelle. E premetto e avviso il pubblico, mercoledì verrà pubblicato sul nostro canale di Brioltre un'intervista a Lorenzo Borré, l'avvocato storico degli attivisti del Movimento 5 Stelle che ci ha riassunto gli aspetti proprio tecnico-legali della situazione in cui il Movimento 5 Stelle si trova e cosa possiamo aspettarci da questa situazione. Guardatela, è un'intervista molto interessante soprattutto perché, a differenza di quello che facciamo qua, è molto tecnica, è rimasta proprio sui fatti e sulle questioni legali, tecnica degli statuti. insomma, quindi è veramente interessante. Poi, io non lo sapevo, ma abbiamo avuto in Italia il nostro Elon Musk e io e Nicola ci abbiamo pure lavorato insieme, ragazzi. Cioè, roba clamorosa e quindi dovremmo parlare di questa cosa. Sì, non l'ho capito. Pensavo che stavamo ancora scherzando con la... No, 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 cavoli, cioè... Siamo stati fortunati, Nicola, io e te. E poi, Costa, hai partecipato all'evento organizzato da Luigi Marattin lo scorso weekend, se non ricordo male, e parliamo e vediamo cosa è successo e che impressioni ne hai ricavato. Volentieri, volentieri. Dai, allora, partiamo da Grillo e Conte, dall'elevato che diventa è levato. È levato, è levato, sì. Perché il Movimento 5 Stelle ha votato sulla modifica di alcuni punti dello statuto e, ripeto, tutte le questioni tecniche le rimando al video di cui vi parlavo l'intervista con Lorenzo Corrè, però la sintesi è che la maggioranza degli attivisti iscritti al Movimento depurati dagli inattivi, cioè nei giorni precedenti alle votazioni i vertici del Movimento hanno richiesto a tutti gli iscritti di confermare il loro status di attivisti partecipanti, altrimenti sarebbero stati depennati dagli aventi diritti al voto, questo ovviamente per abbassare il quorum dei partecipanti, però la maggioranza di chi è restato, intorno al 63%, ha votato per eliminare la figura del garante, quindi di grillo per sostituirla con un collegio eletto e ha aperto la possibilità di cambiare logo e nome, nome e logo, direi che viene prima il nome del logo, al Movimento 5 Stelle stesso. È un fatto importante, è un fatto oserei dire storico, perché siamo a due su due e mezzo fondatori che sono stati di fatto espulsi dal Movimento, il Movimento che è stato fondato sulle espulsioni e Grillo ha subito il contrapasso dell'espulsione, si potrebbe dire. Nicola ha rilasciato una coraggiosissima intervista, come dicevamo prima, di cosa ci hai parlato a Repubblica, Nicola? Cosa ne pensi di quello che è successo? No, io non ne penso niente di quello che è, non posso parlare di quello... Ci sono i poteri forti che ti osservano. Appunto, io non posso parlare, come ha detto il direttore del Fatto Quotidiano, io non devo e non posso parlare... Non è il direttore, la manina. La manina, ok. La manina, la manina. No, allora, io mi ero dimenticato, in realtà, in questa bella chiacchierata che ho fatto con una collega di Repubblica, di una frase meravigliosa, perché stare dietro questi è veramente difficile. Cioè, è molto più facile trovare uno sano di mente nel futuro governo Trump che stare dietro a questi. Vabbè, quello... Vabbè, non mi fate dire cose... La frase è questa, abbiamo rispettato la regola del doppio mandato per tutelare voi, punto esclamativo. Per evitare che la politica diventi un affare privato di tutela del destino personale, la rispetteremo tutti, vale anche per me, ci batteremo perché questa regola rivoluzionaria sia adottata da tutti i partiti. Era la promessa di Giuseppe Conte nel 2022 sulla regola del doppio mandato che, ovviamente, e forse non senza qualche ragione, figurati un po', si prepara a essere cassata. Io non ho detto niente di particolare, ecco perché mi ha colpito l'Elzeviro del direttore, del potere forte di Milano e del Movimento 5 Stelle. Tutto qui non ho detto niente di che, però questa frase ve la volevo ricordare, o che voi siete esseri privi di spirito, non è che essere coerenti è un valore in sé, perché uno, per esempio, può essere coerente e dire sempre le stesse minchiate. Quello non è una bella cosa. Però, insomma, sulle cose che pensi siano fondamentali nel tuo agire politico e le propagandi come tali, magari, insomma, quando cambi idea, insomma, pensaci due o tre volte. Questo è quello che più o meno ho ricordato in quella chiacchierata. L'unica cosa su cui sono stato un po' caustico per la cronaca è che quando mi hanno chiesto ma, insomma, il futuro leader solitario del Movimento è un uomo antisistema, a Giuseppe Conte un uomo antisistema non ce l'ho fatta. cioè, ho avuto una mezza crisi veramente una specie di crisi fra il riso e il respiratorio. Abbiamo interrotto, ho trovato una camera iperbarica a poca distanza e poi abbiamo ripreso l'intervista. per cui è sempre divertente. Sempre divertente. Vi ho tradito. Vi ho tradito. Ma l'hai fatto, Nicola, l'hai fatto con spirito di servizio e con... Cioè, spirito di servizio sì, tesoro mio, mica mi hanno pagato. E soprattutto mi hanno chiamato alle 7.40 del pomeriggio. Ora, alle 7.40 del pomeriggio voi che vivete nelle metropoli capitali del mondo, io lo capisco che ancora state al terzo spritz, al secondo, ma io alle 7.40 della sera mi sto preparando per la lunga notte invernale macarese. Certo che l'ho fatto con spirito di servizio. Pensa che io alle 7.40 della sera di solito ho finito di cenare da un'ora e un quarto, quindi... Vabbè, ma tu... Non raccontare pubblicamente dei tuoi disturbi cognitivi, ma solitamente chi vive a Londra o a Milano o giù di lì a Roma, insomma, a New York, alle 7.40 ancora se la gode. Cioè, io sono in una fase pre-cola. Sopra cosa? Sopra i 30 anni poi non... Vabbè, ho capito. Devo venire a Londra, tirarti su, farti fare un po' di vita notturna, che a me quella città mi piace. Quindi, in generale, per me sono città dove ci sono almeno 10 case l'una vicina alle altre. Per cui già... Già sento l'aria frizzantina della notte che arriva. Vabbè, insomma... Oh, a proposito, io avevo letto qualche commento sui nostri CFA precedenti, forse uno. E vogliono assicurare tutti... No, mi chiedevano della mia gattina. Sta bene? Sta bene? Sta bene, certo che sta bene. L'è migliorata e... Fortunatamente si è fatta tre giorni di terapia intensiva, però si è ripresa. Scusate. C'era qualche commento preoccupato e volevo soddisfare la curiosità dei nostri. C'è anche i fan privati canestrali, quelli che gli chiedono... No, 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 io, la mia piccolina. Appunto, vabbè. Appunto, capito, Costa. Io mica sono te che lotti... Canestrale Convista. Very important person. Ma io non sono mica biondo che lotto contro i poteri forti per la libertà di stampa... Anche per fare i poteri forti, dai. Io sono i poteri forti. Mamma gà. Io lo vorrei avere un amico che fa parte dei poteri forti. Oh, verrà fuori anche a mia insaputa che sono io la manina, eh. A mia insaputa. Sì. Guarda, se continui così, stanno per chiamarti a pomeriggio 5. Cioè, saresti perfetto per ammanzire... Pomeriggio 5... Cioè, roba... Il pubblico pomeridiano. Meraviglioso. Quindi, che è successo nel mondo? Io che sto... Se mi chiamano a pomeriggio 5, ti faccio arrivare un invito per amici di Maria De Filippi. Promesso. Guarda, ci sono più probabilità che io vada a scrivere un prossimo Elzevino col direttore del Fatto Quotidiano. piuttosto che andare ad amici. Vedi tu. Vedi tu. Costa, per favore, fai salire di livello intellettuale. Salva questo gesto. Salvaci. Allora, fatto salvo i gesti di protesta civica di Nicola Biondo. Io mi sono sciroppato molte ore del meeting, della convention, della festa, del neo-movimento 5 Stelle. Ho anche ricevuto, devo dire, solidarietà da molti follower che hanno detto che cosa devi espiare, ma perché lo fai, ma poi siamo preoccupati, ma ce l'hai una buona assicurazione sanitaria, cose di questo tipo. Sì, mi sono sciroppato molte ore di quell'intervento. Mi interessava in modo particolare l'intervento, gli interventi, per meglio dire, del team che potrebbe affiancare Giuseppe Conte nella costruzione di questo partito, gli interventi degli economisti in modo particolare. Ho visto con grande dolore Luigi Zingales partecipare a questa roba qui. Ho cercato di capire se il partito, o meglio, se il movimento diventa un partito. Me l'ero persa questa, me l'ero clamorosamente persa. Sì, sì. Luigi, sì. Perché non voglio essere troppo cattivo, dico soltanto questo. Guardate la mia faccia. Mi fermo ad un'espressione facciale, perché potrei dire cose pesanti. E poi dicevo, mi interessava capire se lo scippo, perché di scippo si tratta, che in realtà secondo me si era già consumato tempo dietro. Cioè è soltanto la coda di la fine probabilmente, di uno scippo in cui a mio modesto parere Giuseppe Conte è stato più furbo, più abile di Beppe Grillo. Il che è tutto dire. Perché se Giuseppe Conte è più furbo e più abile di te, qualche domanda te la dovresti porre. Premesso, ricordiamo, mi sono dimenticato di dirlo prima, ci sarà la partita di ritorno. Ci sarà la riconta. Ci sarà la riconta, perché come diceva, come spiegherà Lorenzo Vorre nel video che ho teased all'inizio, c'è una clausola dell'ultimo statuto valido secondo la quale il garante può chiedere di ripetere le votazioni e Grillo ha esercitato questa facoltà e quindi ci saranno nuove votazioni. Personalmente non mi aspetto, scusa cosa se ti interrompo, non mi aspetto, non credo che ci saranno grosse sorprese. Si vota dal 3 al 5. Si vota dal 3 al 5. La cosa curiosa che dovremmo commentare e ci chiedo di farlo è che Grillo sta facendo campagna. Grillo e i suoi devo spoilerare una definizione che non credo che venga dalla farina del sacco di Lorenzo e la cosa mi fa ancora più ridere, però quella che viene definita negli ambienti la resistenza francescana sta facendo campagna sta facendo ancora in lacrime. Oggi Nicola c'è un pianto di rotto continuibile. Io sono veramente sensibile. Scusate la campagna francescana di chi? Di Grillo? Quello che si prendeva 300 mila euro all'anno. La resistenza francescana pare che sia il modo in cui si definisce quel che ho capito io dall'allusione che ha fatto Lorenzo. dovrebbe essere il modo in cui si definiscono i seguaci di Grillo della corrente di Grillo all'interno del morente Movimento 5 Stelle che insomma per uno con una bella villa a nervi con piscina con succursale in Toscana non è proprio niente male devo dire però insomma fanno campagna per la stensione per far mancare il quorum che mi pare una macchia bellissima proprio un epilogo straordinario e meritato quasi oserei dire sì ma concludo con il discorso solo una cosa concludi la mia conclusione è che il Movimento 5 Stelle non cambia resta lo stesso cambia semplicemente padrone ufficialmente posto che il possesso del Movimento 5 Stelle era già saldamente nelle mani di Giuseppe Conte si è formalizzato il possesso trasformando l'improprietà da un punto di vista dei contenuti rimane la stessa roba indecifrabile secondo me la perfetta sintesi del fuffismo del Movimento 5 Stelle non sta tanto nella presenza o nell'ospitata di economisti una volta illustri ma quanto nella personalità di Conte che dice che lui avrebbe risolto la guerra tra Russia e Ucraina tempestando di telefonate come fosse spam a questo punto mi viene da dire il povero Vladimir Putin che sicuramente sarebbe scritto al registro delle opposizioni per non ricevere le telefonate di Conte per il resto non cambia nulla fuffa era idee balsane erano idee balsane rimangono ripeto cambia la proprietà adesso bisogna vedere se cambierà anche il simbolo c'è una questione però non so se l'avete affrontata con Lorenzo Marco sto ben detto il simbolo di chi cazzo è eh sì l'abbiamo affrontata l'abbiamo affrontata con Lorenzo e Lorenzo ci dà una eh una overview una una panoramica su quello che sono i contratti in essere e quello che sembrano essere i contratti in essere deducendone eh alcune conclusioni che vale la pena ascoltare su questa aspettiamo con ansia allora il video non voglio spoilerare perché così guardate il video con Lorenzo però Costa posso farti una domanda in veramente due parole perché sono curioso io perché proprio ne ero perso questo passaggio ehm che cosa ha detto Zingales in due parole no allora sì in due parole veramente perché poi non c'è molto a dire Zingales ha parlato in un video registrato credo per una ventina di minuti ok l'economia non ha assolutamente parlato l'economia è stata lasciata tra l'altro una vecchia conoscenza eh un vecchio amore proprio di Beppe Grillo che è Stiglitz poi sono stati interventi di altri economisti alcuni francamente che li ho anche dimenticati perché sono talmente inconsistenti come intervento ha fatto un buon intervento Francesco Saraceno parlando una lingua che non è la lingua del Movimento 5 Stelle perché ha spiegato che cos'è la produttività e Francesco tra l'altro diciamo anche poi dopo gli ho mandato un messaggio ha detto complimenti l'unico che ha detto cose serie Zingales lì è la mia sorpresa anche il mio quasi dolore certo non pari a quello di Nicola Biondo di poco fa che piangeva la sorpresa è che Zingales ha fatto un elogio delle caratteristiche democratiche del Movimento 5 Stelle non soltanto quel Movimento 5 Stelle che stava prendendo forma sabato scorso domenica scorsa ma del Movimento 5 Stelle quello che avete conosciuto voi si è perso il memo si è perso il memo scusate aspetta aspettate chi cazzo è Leone Zingales chi è Leone Zingales chi è questo Luigi 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 si ho capito io conosco un sacco di Luigi chi è chi è da quale e Bettola di Caracas ha tirato fuori questa geniale interpretazione tale Luigi Zingales questa è la sorpresa dolorosa perché Luigi Zingales qualche anno fa adesso non so perché non seguo più queste classifiche lasciano un po' il tempo che trovano Luigi è stato considerato uno dei 100 economisti più influenti è uno di fermare Beglino è docente a Chicago Dov'è docente? a Chicago alla scuola di Chicago ah ho capito che a questo punto esattamente come è elevato quindi sono è elevato Chicago diventa Chicago quindi lui fa parte di quella genia di simpatici democratici che ha dato una mano a Pinochet che ovviamente per questo signor Luigi era uno stimato una brava personcina insomma educata ho capito vabbè ragazzi dai su no ma l'elogio della democrazia democrazia tanto quella che era l'elogio dei meccanismi democratici del Movimento 5 Stelle quelli che raccontiamo a CFA da tempo che voi avete descritto così bene nei vostri libri io sono rimasto no ma non è che li abbiamo descritti io e Marco noi abbiamo fatto la cronistoria insomma di pedate poco democratiche cose e atteggiamenti anche diciamo ben oltre il codice penale che sono stati fatti subire anche a parlamentari quindi un filino un po' più grave insomma che è spellere la zia Marietta di Gioia del Colle così con una letterina con una mail firmata lo staff bene bene d'altra parte Nicola quel Movimento 5 Stelle era gestito amministrato e fondato dal nostro Elon Musk bene voi che siete uomini di mondo mi mandate l'indirizzo fisico niente mail roba del genere dove posso scrivere una letterina al magico rettore come diceva un vecchio amico che quando mandava quando mandava la lettera al rettore un tempo si mandava la lettera invece di scrivere al magnifico scriveva al magico rettore mandatevi l'indirizzo del magico rettore che cos'è del MIT che cos'è dov'è sto tizio mi mandate il coso mi mandiamo una letterina con la traduzione sia di supernova del sistema casareggio e chiediamo ovviamente una cattedra in puttanologia alla nota università di Chicago io e camestrari ce la medichiamo insomma vabbè 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 andiamo a salvare anche l'accademia no ma a me nell'accademia sinceramente non mi ha fotte niente a me me ne fotte sempre di quei poveri studenti che sentono queste cose peraltro non italiani quindi certe cose possono anche bellamente ignorarle quello che mi fa invece che ancora mi mi prostra sono i genitori e gli studenti che immagino paghino un sacco di soldi per mandare i propri virgulti a sentire un professore che tesse le lodi che è così fuori di testa tesse le lodi della democrazia in te dai sub dai che fra dieci minuti inizia il teatro ho fatto l'abbonamento dai vai con Elon Musk o meglio con l'Elon Musk italiano se ho capito bene qui non sono vai vai no io non so da dove cominciare c'è c'è il nostro amico Davi Davi che che ha che ha detto che che ha detto che suo padre era Gianroberto Caseleggio era era come Elon Musk Elon Musk italiano seguito dal fatto che lui potrebbe potuto fare il ministro smettendo ovviamente tutto quello che aveva detto cioè che era un semplice attivista ma questo transat robe vecchie però la cosa mi ha colpito perché devo dire che non ha del tutto torto perché ci sono delle similitudini con la figura di di Musk diciamo che da quello che si legge dei del clima che si respira nell'azienda di Elon Musk devo dire che ci siamo nel senso che aveva uno stile manageriale diciamo come dire Nicola aiutami esigente diciamo un filino un filino un filino direi un filino aveva un rapporto diciamo curioso con con il concetto di orario di lavoro dei dipendenti per esempio quindi sì ci sono delle similitudini diciamo che entrambi hanno cercato di utilizzare le loro piattaforme per trovarsi su un posto a tavola in politica Gianroberto Casaleggio lo fece direi un pioniere in questo quando prima assistendo Antonio Di Pietro e poi Grillo e poi cercando di convincere Luigi De Magistris e Sonia Alfano di rivolgersi a lui per la 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 propria comunicazione e poi una volta che il Movimento 5 Stelle è entrato in Parlamento mandando suoi fiduciari a proporsi ai parlamentari proporre la sua azienda ai parlamentari per gestire la comunicazione insomma entrambi hanno sfruttato il proprio business per cercare di ottenere legami del tutto leciti fino a prova contraria con il potere politico però diciamo che qualche proporzione va fatta qualche proporzione va fatta io non mi spingerei così lontano dal dire che fosse l'Elon Musk italiano quantomeno non ricordo prodotti rivoluzionari nel campo dell'aeronautica non ricordo automobili elettriche non ricordo ricordo Davi Davi sul monopattino elettrico quello si forse quello intendeva con facendo questo paragone per il resto e se ci volesse suggerire che la password di Elon Musk su x sia visto che lui utilizzava la password Davi Davi x Elon Musk Elon Musk Elon Elon dai proviamoci però per esempio un'altra cosa però un'altra cosa non ci sei andato lontanissimo perché un'altra cosa in comune effettivamente è che Elon Musk utilizza i profili secondari diciamo per operare sui social esattamente come faceva già Roberto Casaleggio che utilizzava lo pseudonico Parsifal per alimentare le discussioni nei commenti del blog di Grillo quando lo gestiva quindi sì ci sono un po' le similitudini ecco è sull'outcome sul sul prodotto finale che insomma c'è qualche differenza faccio un po' fatica a trovare come dire l'innovazione tecnologica che possiamo vedere in un lancio della spaceship di Elon Musk con la piattaforma Rousseau per dire stride un po' questo contrasto tra i viaggi suborbitali quella ciofeca quella roba lì insomma che avevano fatto con la piattaforma Rousseau però sono io che chiaramente ho un bias nei confronti dell'innovazione mi rendete conto che è da mezz'ora che parliamo di cose appese proprio in aria sulle nuvole di paragoni folli di prese di posizione insomma lisergiche di elefanti che fanno le operazioni Nicola il giornalismo è in pericolo è uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare siamo qui per questo non possiamo tirarci indietro non possiamo tirarci indietro tu stai paragonando il CFA a un lavoro è un'opera meritoria un'opera meritoria a tutela delle istituzioni democratiche di questo paese come il fatto quotidiano e della libera la prossima puntata la faccio da solo perché anche voi due vi siete rincoglioniti costa aspetta un attimo aspetta aspetta fammi dire una cosa però sui maschi a Gio Roberto dai fammela dire fammela dire ma certo te la faccio però ci devi dire poi che nel giro di dieci giorni non sei andato solo lì alla convention del movimento sei andato anche in un altro posto che sei richiestissimo nei convegni di partito di futuri partiti che vai in giro che vai in giro io ti vedo vabbè raccontaci un po' di cose serie perché Canestrari stavolta è proprio strafatto come una pigna come una pigna no su un nas che Gio Roberto Casaleggio mi viene a dire questo Roberto Casaleggio utilizza la politica per fare politica di fatto si 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 butta in quel sistema perché ci vede un ritorno Elon Musk non ha bisogno di vederci ritorno immediato nel senso che già ne ha in abbondanza non crea nulla Elon Musk utilizza quello che c'è Gio Roberto Casaleggio aveva creato aveva tentato prima di creare Italia dei valori o di modificare Italia dei valori e poi si inventa il Movimento 5 Stelle Elon Musk sotto questo aspetto è persino meno innovatore di Gio Roberto Casaleggio perché Elon Musk si attacca alle parti basse o forse alle parti alte di Donald Trump perché ci vede un un trade off positivo in quello che fa e peraltro i dati dimostrano che ci aveva visto bene no sulla cosa che mi chiedevi sì sono stato al al kick off del di Orizzonti Liberali che è stato intitolato secondo me il nome intelligente il coraggio di partire perché ci sono due elementi il primo elemento è il coraggio di affrancarsi da quello che Luigi Maratin e poi vedremo anche altri avevano fatto precedentemente quindi il coraggio di staccarsi da ciò che erano da ciò che sono stati e da ciò che probabilmente era meglio se non fossero stati e il secondo elemento è quello di partire perché il viaggio che intraprendono è molto lungo forse a loro mi preoccuperei di renderlo più lungo possibile nel senso che non si costruisce quello che vogliono costruire in sei mesi un anno due anni tre anni forse neanche in cinque anni ci vuole molto tempo quindi devono farne di strada e lungo questa strada incontreranno e stanno già incontrando molti compagni di viaggio con il rischio secondo me è che il rischio oppure l'opportunità di perdere alcuni compagni di viaggio cioè molti si avviceranno molti si allontaneranno ci sarà una battaglia di carattere identitario che devono costruirsi perché non hanno un'identità o meglio qui c'è stata la mia critica che peraltro è espressa anche pubblicamente io ho partecipato soltanto alla giornata del sabato che è stata francamente abbastanza noiosa nel senso che politica c'era altissima qualcuno dirà no ma c'era molto politica se tu che non l'hai capita no per un partito che vuole iniziare per un movimento che vuole diventare partito c'era tantissima autoreferenzialità negli interventi che ha consistito poi non ho guardato perché avrei potuto guardare la registrazione di ciò che è avvenuto domenica ho ascoltato soltanto il discorso finale di Luigi Marattin che non fa una grinza Luigi ha rimesso le cose a posto però nella prima giornata ci ho visto tutti i difetti che ho visto altre volte nell'area che Luigi Marattin vorrebbe occupare quest'area liberale e cioè guardarsi allo specchio dire ma guardate quanto siamo belli quanto siamo fighi perché non ci capite noi che conosciamo le dinamiche del mondo noi che abbiamo sconfitto i mostri noi che abbiamo fatto fortuna com'è che non ci capite e nessuno spiegava per quale motivo quel mondo lì non viene capito almeno in Italia ma non soltanto in Italia in Italia in modo particolare quindi la prima giornata è stata abbastanza almeno per me abbastanza deludente poi ripeto i 40 minuti 45 minuti che ha fatto Luigi come discorso finale sono stati perfetti dove andranno boh non lo so riusciranno ad arrivare dove devono arrivare altrettanto non lo so c'è bisogno di qualcosa di diverso sì c'è assolutamente bisogno di qualcosa di diverso perché l'esperienza recente e non recente ci dice che l'Italia è messa talmente male appunto che da una parte ci sono ci sono i Salvini tra l'altro sbertucciato da grandissima lasciatemi che faccia un elogio pubblico di Carlo Calenda in modo in cui Carlo Calenda ha blastato Salvini l'altro giorno proprio sulle nomine di Donald Trump non so se l'avete visto il video erano insieme ad un convegno e c'era forse era la presentazione del libro di Vespa e Salvini diceva no Trump le nomine vedrete farà cose fantastiche e Calenda ha detto di quali nomine stai parlando e Salvini ha detto non le conosco ha detto ma allora come cacchio fai a dire che insomma è stato un blastaggio meraviglioso la cosa singolare ma anche molto significativa è che le applausi non se le è presi Calenda ma se le è presi Salvini questo dice molto dell'Italia Salvini che fa la figura dell'incompetente del bugiardo perché se non se dici che le nomine sono fantastiche e poi ti chiedono quali nomine e tu rispondi non le so perché non leggo i giornali hai fatto una figura per a Cotaro gli applausi sono andati a Salvini e non a Calenda quindi c'è bisogno perché la politica italiana è messa talmente male che c'è bisogno di qualcosa di qualcosa di diverso che potrebbe essere rappresentato da Maratin e altri con enormi giganteschi ostacoli coraggio di partire bene possibilità di arrivare secondo me basse chiuso ho finito me la lasci dire l'ultima parola ah come no no così evitiamo anche canestrare e dica qualche altra simpatica sciocchezza come ha fatto tutto il pomeriggio lo dico con gentilezza io a uno che vuole fare il politico non chiedo di essere brillante come un attore nel prendere per i fondelli per altro uno come Salvini che insomma io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo di persona insomma lo prenderebbe anche in giro l'ultimo dei puffi se gli si mettesse davanti però io non chiedo questo a un politico di fare questi show chiedo di essere lungimirante utile di avere una visione gli chiedo un sacco di cose di politici brillanti sinceramente ne abbiamo visti pure troppi di politici invece che guardavano solo alle proprie tasche alla propria corte pure troppi per cui sì molto bello però insomma come dicevi tu di politica ne ho sentita pochina e molta autoreferenzialità per cui questo va bene per catturare per fare due video divertenti catturare l'attenzione dei media che ovviamente ormai sono ancora più autoreferenziali della politica perché si leggono fra di loro e infatti perdono copie e qui non c'entra niente la tiktok la tecnologia le cose i giornali di questo paese sono brutti sono brutti anche se vendessero milioni di copie certo sono brutti sono pure infiltrati da appunto sono pure brutti tu non mi devi però cacciare nei guai i canestrari io ho capito che tu mi vuoi fare dire cose cose che penso ma che non posso dire io non voglio che non voglio che si prega tu stai conducendo una battaglia meritoria Nicola ti si deve dare atto guarda che difendere l'indipendenza del fatto quotidiano da parte tua è un gesto assolutamente nobile proprio io voglio che ti sia riconosciuto questo merito perché guarda quando si abbandona così si diverte come un pazzo non dice niente ride le endorfine aumentano capito non è possibile sta roba non è possibile vabbè ci siamo capiti Costa ci siamo capiti ci siamo capiti e condivido condivido anche io adesso scherzi a parte se io devo scegliere di votare un partito sulla base di quanto è brillante il suo capo il suo leader a prendere in giro gli avversari questo voto voto Grillo capisci non solo voto Grillo voto proprio la Residenza Francescana quindi non lo so a me preoccupa cioè a me di queste iniziative che sono sempre molto interessanti da un lato riconosco insomma non non arrivere a spingermi a definirlo coraggio perché il coraggio è un'altra cosa però insomma che che Marattina abbia voglia di fare questo ennesimo tentativo per carità è un'operazione ammilevole però sì cioè allora io non so se ci ha fatto questa riflessione ma quell'area lì continua a chiamare i suoi libri e i suoi eventi utilizzando il termine orizzonte orizzonte selvaggio quello di Calenda orizzonte liberale quello di Marattin io non non penso che sia l'orizzonte da trovare da raggiungere il problema di quell'area penso che sia da cominciare a capire risolvere qualche problema tutto qua ma allora guarda sì orizzonte liberale tra l'altro è un termine bruttissimo secondo me proprio uno dei peggiori che potessero scegliere dico che coraggio è azzeccato se vuoi dare un'idea perché almeno per alcuni di loro fra quelli di G. Marattin non per tutti attenzione non per tutti il coraggio cioè penso a Marattin penso per esempio a Giulia Pastorella che ha fatto ha fatto una cosa che non mi aspettavo cioè sfidare calenda così come Luigi Marattin sfida Renzi sapendo che l'unica l'unica soluzione possibile è che venga cacciato di fatto perché questo è quello che è successo cioè che lui sfida tra l'altro sulle parole usate da Renzi sfida di fatto Renzi e il partito lo metta nelle condizioni l'unica condizione possibile era che se ne andasse quindi in questo senso trovo il coraggio trovo che la parola coraggio sia corretta anche perché se l'avventura non dovesse andare bene significa anche che tu politicamente sei bruciato il che non è detto che sia un male anzi probabilmente per molte persone per esempio quelle che stanno qui che hanno scelto di non fare politica è molto meglio stare lontano dalla politica che non fare politica però è una cosa rara che un politico si metta a tal punto in gioco tanto da rischiare di uscirne definitivamente Giulia ha fatto grossomodo la stessa cosa anche Giulia ha scarsissime non scarsissime possibilità di essere rilevante nel congresso che si farà in azione però anche Giulia ha detto o così o la morte cioè non posso stare ora una domanda che io ovviamente mi sono fatto e che è stata anche all'origine di come dire di divisioni differenti anche aspre espresse in modo aspro con entrambi e ma ve ne accorgete adesso cioè ve ne accorgete Giulia dopo quattro anni e Luigi Martín dopo dodici loro lo sanno non è perché sono amici entrambi sono persone con cui parlo a cui ho detto decine e decine di volte in tempi non sospetti ma che cacchio ci fate lì se voi siete un'altra roba e per quale motivo svegliere la vostra dignità personalità i vostro le cose in cui credete per per andare dietro ad un leader che vi tratta fondamentalmente come un'opportunità quando gli servite e un fastidio quando non gli servite però hanno avuto il coraggio di farlo cioè rischiando seriamente perché rischiano entrambi molto seriamente di diventare irrilevanti dal punto di vista politico poi magari torneranno a fare una carriera che entrambi avevano avviato e sarà anche meglio per loro in questo senso coraggio sì ok in questa accezione la posso anche condividere quello che volevo dire su Giulia Pastorella è la seguente cosa allora sia Luigi Malattin che Giulia Pastorella hanno carriere come dicevi avviate competenze skill che sicuramente li mettono al riparo da qualsiasi conseguenza negativa del fallimento di questa operazione politica che può andar bene come può andar male e se va male amen torneranno a lavorare loro sono due che possono tranquillamente tornare a lavorare anzi probabilmente gli conviene pure mi permetto di dare un consiglio a Giulia Pastorella sulla base di un commento che ho letto a un suo tweet a cui lei ha risposto il rischio che alcuni suoi follower vedevano è che a un certo punto trovasse un accordo si tirasse dalla corsa e ritrovasse la sua influenza in armonia con la leadership del partito secondo me questa questa tornata del congresso di azione per Giulia Pastorella è un momento estremamente importante della sua potenziale carriera politica perché se non mantiene la parola su quello che lei stessa ha detto e cioè che lei va a congresso e piuttosto perde non credo che si riprenderà più in termini reputazionali assolutamente assolutamente per cui il consiglio che mi permetto di dare a Giulia Pastorella è vai e perdi perché è una di quelle situazioni in cui perdere è la soluzione come dire l'outcome vincente chiamola così e Giulia tra l'altro purtroppo deve anche difendere la propria immagine da bias da quelli che secondo me sono bias rispetto alla sua persona e c'è poco da girarci intorno perché è una donna e perché è una donna in gamba nel suo lavoro e nella sua carriera che fin qua ha dimostrato e e quindi purtroppo deve difendersi anche da questo da questi pregiudizi per il fatto di essere donna e mi spiace però è così io ho visti gli ho visti in prima persona quindi non penso che sia importante anche per questo per lei mantenere fede a quello che a quello che ha detto e andare a congresso e perdere se così deve essere perché ripeto Giulia è una persona che al di là delle idee politiche che uno può avere della sua attitudine al compromesso oppure no ha competenze e una professionalità tranquillamente spendibile fuori dalla politica quindi lo fa perché le piace chiaramente non perché non ha alternative e proprio perché ha alternative perché scendere a compromessi inaccettabili o o imbarazzanti in alcuni casi quando ha una carta da giocarsi che sì è difficile ma non è tutto perso anche in prospettiva al di fuori d'azione cioè uno perde il congresso siccome comunque siamo in una in un contesto politico in cui dominano ancora i partiti personali e quindi se sei in un partito personale o vinci o vinci e vincere vuol dire mettersi l'accordo con il capo del partito personale c'è poco da fare però se la tua prospettiva è quella di continuare la carriera politica fallo con alle spalle una decisione presa e portata a finire condivido condivido le parole sono state molto esplicite quindi al momento certo in politica non si sa mai però al momento sembra Giulia sembra estremamente convinta di andare appunto alla guerra come alla guerra o la va o la spacca se la spacca addio politica e faccio qualcos'altro come dicevi giustamente tu Giulia ne ha da fare c'è da dire un'altra cosa che se il congresso che si trasse ricordo bene a febbraio di azione andrà come molto prevedibile che vada rivedremo Giulia sul palco insieme a Luigi Marattini se poi la spacca o meglio va male anche Luigi Marattini è chiaro che dovranno entrambi Luigi uscire dalla tornare a insegnare all'università e Giulia tornare a fare quello che faceva prima probabilmente che facciavano entrambi anche abbastanza bene però non è un cammino facile veramente complicatissimo per questo tendo ad essere con entrambi sono a differenza del passato mi viene difficile essere duro con entrambi perché è vero questa è la scelta che dobbiamo fare prima ancora di iniziare probabilmente iniziare il loro percorso politico però viva Dio qualcuno che ha avuto il coraggio di rinunciare a qualcosa di certo per imbarcarsi in un'avventura che ha mille insidie quindi chapeau appresso il coraggio sì anche la difficoltà soprattutto sarà nel fatto che è un'area politica che in Italia è sostanzialmente inesistente o quasi quindi si giocano si contendono una fetta di elettorato molto molto piccola c'è spazio per uno massimo due partiti forse se si mettono d'accordo non c'è spazio per due partiti al centro c'è spazio per un partito quindi si tratta di capire qual è la persona più ragionevole indicata per guidare per rappresentare quell'area politica io mi astengo perché si è fatta una certa ma sull'idea del partito liberale di massa hanno sbattuto il grugno raffinati pensatori e capipopolo di alto livello come era Marco Pannella capopopolo detto con un pizzico più di un pizzico di critica e anche con un po' di affetto ovviamente per cui cioè o o questo concetto si allarga e e si modernizza se no stiamo a fare i convegni come quello che ha raccontato Costantino cioè quanto siamo belli poi prendiamo per il culo un ministro e e spuntiamo su repubblica.it non costruisci niente così ragazzini belli io vi devo abbandonare abbandoniamoci abbandoniamoci torna alle tue battaglie per la libertà sì sì come no per la mia libertà io ci combatto sempre tutti i santi giorni vorrei fare un sacco di cose e le faccio quindi vinco sempre bravo va bene vi abbraccio e vi voglio bene bene mi raccomando che poi compaiono i trafiletti di critica le sigle se no ti mando a studiare se no ti mando a studiare economia da da quello che dice che che era un movimento democratico sì ciao ragazzi ciao 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 Grazie per la visione!